Anchors away, my boys, anchors away Farewell to college joys We sail at break of day Through our last night on shore Dream to the fall Buongiorno Oggi finalmente iniziamo a lavorare seriamente Sul nuovo progetto Vedete che non ve ne ho ancora parlato ma Succederanno molte cose nei prossimi mesi Cambieranno diverse cose Stiamo investendo, stiamo progettando Stiamo strutturando, stiamo creando Insomma ci saranno dei cambiamenti e saranno fighi E oggi finalmente iniziamo a lavorare sul nuovo sito Prenderemo un nuovo portale internazionale Ma poi vi dirò i dettagli Comunque oggi è una fantastica giornata Veramente è una fantastica giornata E cosa volete di più di questo? Non mi sembra neanche di essere a lavoro Questa è la bellezza di vivere sul mare Che la mattina ti puoi prendere i tuoi dieci minuti Per fare una passeggiata sul mare Leggere qualcosa, vloggare Snapchattare, fare quello che vuoi insomma Ma è super rilassante E oggi sembra estate Anche se in realtà ancora non è affatto estate Beh ci stiamo avvicinando Ho già fatto colazione Adesso vado a incontrare il mio amico Antonio Che è colui che si occupa appunto del nuovo sito Grazie a tutti Che meraviglia ragazzi Stamane c'è silenzio, poche persone in giro Il sole, un leggero venticello, il mare calmo, barche a vela, gente che pesca Wow Adesso mi ricordo perché adoro questo posto Fare una passeggiata di un quarto d'ora non apprezzo veramente Guardate qua Ah volete sapere una cosa? Che stamane dovrebbe arrivare Dovrebbe arrivare Vediamo se riusciamo a sovresporre Dovrebbe arrivare La nuova No non è nuova Per me è nuova Panasonic G7 Ebbene sì Non vedo l'ora, dovrebbe arrivare stamattina Quindi quando arriva la moglie dovrebbe chiamarmi La vado a prendere E la proviamo 4K Ottima qualità La sola è la minore della GH4 Però con restazioni Con poca luminosità Molto migliorate Un 4K da paura E una qualità video davvero notevole E ecco una buona macchina Non vedo l'ora di provare Dovrebbe arrivare Ok Incontro con Antonio Molto bene Ragazzi sono super contento Super eccitato Sarà una figata Questo progetto È una figata Stiamo veramente Facendo un passo Importante Vi tengo aggiornato E adesso Andiamo a sistemarci Questo popò di ciuffo Che mi ritrovo Quindi Barbershop Barba e capelli Come premio Per Come è andata la mattinata Yes Barba Capelli Baffi Che dite Vi piacciono Commentate nei commenti Ditemi che ne pensate Sono ancora sul mare Che figata oggi È vero che è una bella giornata Ma guardate là Dietro di me Là giù Qua Ci sono un po' di tedesche Che fanno il bagno Caldo sì Ma non così tanto Adesso sono in fissa Con Snapchat E BIM Ragazzi Scaricate BIM Scaricate BIM Adesso farò un video Per spiegarvi come funziona E cos'è È una figata Ragazzi Conoscete che sia in Aestat Naistat Per la precisione Bene Lui è proprietario di BIM Anche È un'applicazione simile a Snapchat Ma non è uguale Scaricatela È una figata Giovani talenti Kitesurf E' un'applicazione simile a Snapchat Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che spettacolo di tramonto. E c'ho anche il drone. Adesso vogliamo laggiù. Che spettacolo di tramonto. Che spettacolo di tramonto. E poi ditemi che Dio non esiste. Che spettacolo di serata. Adesso direi che concludiamo in bellezza con un aperitivo. Te che dici? Muliera? Aperitivo sì, aperitivo no? Aperitivo sì. Bene ragazzi, siamo giunti alla buonanotte. La giornata è andata e è andata molto bene. Wow. Ricordatevi di sorridere più che potete. Perché la vita è un dono. Ciao.